Salve, sono Francesco Paradisi, Senior BBM in Norwegian Cruise Line e volevo ringraziare tutto lo staff di Vola in Crociera per il quotidiano supporto che dà al nostro prodotto. La relazione con Vola in Crociera ormai è di lunga durata e per noi è un punto d'orgoglio quello di poter contare sempre sui migliori specialisti del settore crociere. Quindi insomma, qui in Norwegian ci fidiamo di Vola in Crociera e voi mi raccomando, prenotate su Vola in Crociera. Ciao, grazie!